Ondata di proteste da tutta Italia dopo ricovero in psichiatria imposto allo studente fanese che si era incatenato per protesta al banco per riaffermare suo diritto a non mettere la mascherina. Dopo un primo video condiviso sui social la scorsa settimana, il deputato e critico d'arte Vittorio Sgarbi è tornato sulla vicenda. Nei giorni scorsi aveva attaccato la dirigente dell'istituto per il fatto che a scuola erano arrivati il 118 e le forze dell'ordine. Ieri invece Sgarbi ha rivolto un duro attacco principalmente al sindaco di Fano Massimo Seri approvando le dichiarazioni rilasciate sul caso dal noto psichiatra Alessandro Meluzzi. Un sindaco miope, cieco, che io conosco tra l'altro bene, socialista, quindi con una vicenda che nel suo passato è piena di ferite pensando che si è toccato al suo partito, il quale, dimenticando tutto, elogia Fedez, elogia Fedez per conformismo e manda in ospedale psichiatrico, cioè in manicomio, un ragazzo di 18 anni. Le considerazioni di Meluzzi sono perfettamente condivisibili. Si tratta di usurizio di un gravissimo abuso che penso presenti anche ai rilievi penali. È l'abuso della preside, del professore, è l'abuso del sindaco, è l'abuso della funzione del potere per reprimere chi vuole manifestare una posizione anche discutibile attraverso il TSO. Siamo nell'ambito dell'uso politico, sociologico, ideologico e comportamentale del TSO, continua a leggere Sgarbi, che il nostro ordinamento prevede per casi molto più gravi, ovvero situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita del paziente o quella degli altri. Mi auguro che qualcuno ne risponda, aveva dichiarato Meluzzi, e mi stupisco del sindaco di Fano che appena una settimana fa faceva il difensore di Fedez denunciando il tentativo di censura ai suoi danni e poi ha disposto il ricovero coatto di questo ragazzo. E infine, mi chiedo come possa un giudice dare il proprio assenso ad una cosa del genere. Per un ragazzo ai limiti della minore età, aveva proseguito lo psichiatra, si tratta di un danno gravissimo, forse anche irreparabile. A mio giudizio ci sono gli estremi per ricorrere sia all'azione penale che a quella civile con annessa richiesta di risarcimento dei danni subiti. Sin da ora mi rendo disponibile a sostenere la famiglia di questo ragazzo, se lo vorrà, offrendo la mia consulenza di medico legale di consulente psichiatrico. Poi invoca il ministero dell'istruzione per un'istezione in quella scuola e anche perché da lì si muova la magistratura. Ma tutto questo, al di là di qualunque giudizio si possa dare di queste posizioni, presupponeva un dialogo e un tentativo anche di valutazione dei fatti del professore o della preside, che invece hanno visto questo ragazzo come non solo debito essere ricoverato in uno ospedale psichiatrico, ma plagiato da qualcuno che gli ha fatto capire che la Costituzione prevede libertà che sono state da questi governi totalmente soffocate. Questa è la verità, caro sindaco di Fano, e abiti da parte mia tutta la delusione di chi ti ha frequentato, ma non ti riconosce. Vergognati, stare dalla parte di Fedez, stare dalla parte del più forte e metterti contro un povero ragazzo coraggioso, isolato, forse anche dalla parte del torto, ma tale da essere rispettato, non da essere maltrattato e mandato in manicomio. Vergognati! E al momento Massimo Seri attende di capire l'evolversi della vicenda e non appena saranno delineati tutti gli aspetti, rilascerà dichiarazioni garantendo la realtà dei fatti. Intanto solidarietà al sindaco è stata espressa da Valeria Mancinelli, presidente Anci Marche. Ancora una volta, dichiarato, un sindaco si trova nella posizione di dover affrontare delle conseguenze per aver addempiuto al proprio dovere. Ritengo che Seri ha proseguito Mancinelli di fronte a due pareri medici concordi e non avendo competenze personali specifiche, non poteva che procedere come ha fatto, quindi applicando la legge e disponendo il TSO. Personalmente, con la situazione data, se il fatto fosse avvenuto ad Ancona, città di cui sono sindaco, avrei fatto esattamente quello che ha fatto il collega. Non siamo eroi e nessuno di noi aspira ad esserlo, ha insistito alla presidente di Anci Marche. Siamo soliti metterci la faccia di fronte ai cittadini e all'opinione pubblica. Mancinelli poi ha concluso il suo intervento con una domanda. Cosa sarebbe successo se in presenza della prescrizione del TSO controfirmata il sindaco Seri si fosse rifiutato? Sarebbe stato accusato di abuso di potere?